Questo monastero è situato a circa due chilometri dalla cittadina marchigiana di San Severino Marche, lungo una strada verso sud che termina proprio davanti al complesso. Il luogo dove sorge l'attuale monastero è qui chiamato Colle Persico e si trova a 460 metri sul livello del mare. Fin dal 1100 esisteva qui una piccola chiesa dedicata alla Madonna dal titolo di Santa Maria Submonte. Era servita da un piccolo monastero di eremiti agostiniani che per invito del Papa Alessandro VI nel 1254 scesero in città e si stabilirono sul luogo dove nel 1438 fu edificata la cattedrale dedicata appunto a Sant'Agostino. Nell'eremo di San Pacifico si installarono quindi alcune monache, dette le canonichesse di Sant'Agostino. Nel 1261 esse chiesero al Papa Urbano IV alcuni privilegi come si ricava da una bolla conservata negli archivi capitolari. Quindi restarono nell'eremo fino agli inizi del 1400. La chiesa Submonte e gli edifici dell'eremo furono poi ceduti da Papa Eugenio IV al beato Gabriele Ferretti di Ancona nel 1436 che lo convertì in ritiro per i frati minori osservanti riformati. I frati vi presero stanza nel 1448. La chiesa risalente al 1100 fu ingrandita dagli agostiniani subendo poi varie ristrutturazioni come per la facciata che fu rifatta nel 1842. Oggi vediamo un maestoso portico e una scalinata che hanno quel tanto di teatrale proprio dell'arte neoclassica. L'unica parte salvatasi dell'antica chiesa è il portale a sesto acuto di stile fra bizantino e gotico attribuito a maestranze comacine che lo avrebbero eseguito alla metà del 1400. L'interno non ha più nulla del disegno primitivo ma dietro l'altar maggiore si nota un bel coro in noce eseguito nel 1725 da frati francescani. Anche la cancellata è opera settecentesca e porta lo stemma della nobile famiglia Coletti di Cesolo. A metà della navata destra si apre la cappella dedicata a San Pacifico Divini Gloria di San Severino.